Siamo qua con Nicolas e Piras. Ciao Nicolas, dici le tue impressioni sulla partita. Noi abbiamo giocato veramente male, loro siamo stati fortissimi, siamo andati a un'intensità bassissima e dobbiamo andare avanti. Ok, grazie. Piras, dici ora tu le tue impressioni sulla partita. Secondo me noi abbiamo giocato molto bene, solo i gol che abbiamo preso dobbiamo stare un po' più attenti in difesa, però il resto abbiamo giocato bene. Grazie.